Una modalità completamente diversa di raccolta dei dati, che è l'utilizzo di modulistica, di questionari, quindi uno schema rigido e vorrei dire frammentato di raccolta dato, una cosa su cui, come molti di voi sanno, io sono stato contrario per molti e molti anni, tant'è che nel manuale d'indagine veniva assolutamente sconsigliato l'utilizzo di moduli o formulari, perché le esperienze del passato insegnavano che spezzavano la testimonianza, la forzavano dentro schemi rigidi, potevano influenzare il testimone, soprattutto veniva a mancare quell'intuitus persone che data dall'intervista diretta sul posto preferibilmente di cui parlava prima Paolo. Ma siamo trovati poi a un certo punto, quando l'arrivo di internet ha moltiplicato il numero di segnalazioni che arrivavano direttamente, saltando l'intermediazione dei mass media che aveva caratterizzato i decenni precedenti, arrivavano direttamente a noi, dell'impossibilità anche di gestire segnalazioni che arrivavano sotto forma di email, di telefonate, eccetera, per cui nel bene o nel male si è adottato uno schema il più neutro possibile, il più ragionato possibile, anche qui esistono paralleli e precedenti anche in altri paesi, di modulistica di raccolta dati e messa online a disposizione dei testimoni, questa è diventata la principale fonte di arrivo, diciamo così, di segnalazioni, e non solo per noi, ma se noi prendiamo l'esempio della più grande struttura, che è quella americana del MUFON, se voi andate a vedere il numero di segnalazioni che arrivano direttamente su quello che si chiama Case Management System, che è né più né meno un questionario online compilabile direttamente da testimoni sul sito del Mutual Health Network, e beh, lì arrivano magari 300-400 segnalazioni al mese da scremare, tant'è che il MUFON ha dovuto costruire una procedura e uno schema di assegnazione dei casi e di inquirenti, in maniera che ogni singola testimonianza arrivata per quel percorso, che potrebbe essere, attenzione, anche una solenne panzana, uno scherzo fatto da qualcuno che compilava, era una storia più o meno truculenta, più o meno immaginifica, e ce ne sono di questo tipo, venga comunque seguito direttamente da qualcuno che prende in carico il testimone, prende contatto, verifica l'esistenza e l'identità della persona, raccoglie magari, se è il caso, i maggiori dettagli che servono per cercare di capire qualcosa di più. Uno di questi schemi che era stato originariamente implementato sul sito internet www.ufo.it, è poi migrato su un altro dei nostri siti ed è attualmente il centro stabile, unico, di raccolta di testimonianze con modulistica, diciamo è centralizzato ed è parcheggiato su un sito locale che si chiama Ufotusha, che è quello della sezione di Viterbo, ma di fatto da dovunque si provenga si è indirizzati lì per cui, agli occhi del testimone che compila, non è diverso che trovarsi a qualunque angolo di quello che è il nostro sito internet o così via. In passato anche il MUFON, ad esempio, aveva delle raccolte locali gestite dalle varie sezioni, e poi a un certo punto il consiglio direttivo ha deciso di unificare, quindi sono stati chiusi tutti i questionari online dei vari distaccamenti locali dell'organizzazione e ce n'è uno solo, in maniera che da lì, da quella raccolta, venga implementata direttamente una base dati, cioè al di là della frammentarietà degli elementi, questi affluiscono a una banca dati informatizzata in maniera totalmente automatica e questo è già stato per noi, ma lo è diventato poi negli ultimi più o meno 15 anni, una discreta quantità di informazione e dati, stiamo parlando di molte migliaia, in realtà li misuriamo ormai in decine di migliaia di testimonianze che ci sono pervenute così. Il coordinatore di questo tipo di attività in seno al CISO è Andrea Bovo. Sì, vorrei spiegare brevemente appunto come quello che c'è dietro al questionario, al caso che chi è iscritto alla mailing list casi UFO, quindi sia soci che anche esterni, sono abituati a ricevere nella posta periodicamente, se non quotidianamente, dei casi sotto forma di questionario. Vorrei spiegare tutto quello che c'è dietro, cioè come funziona e come si arriva a quel punto. Praticamente come dicevamo prima, una volta c'era solo il faldone cartaceo, poi con l'avvento dell'informatica il faldone è diventato appunto informatico e in questo processo il fatto di avere un questionario su internet è stato importantissimo, quindi se una volta il testimone poteva compilare il questionario o mandare una mail o mandare una lettera e per avere una copia informatizzata bisognava copiarlo a mano e inserirlo in Excel piuttosto che in Access con tutti i problemi del fatto di copiare dei dati a mano, i problemi sono di tempo, di distrazione, quindi uno si può sbagliare a copiare un campo, sbaglia all'anno, immaginate che tipo di problemi e di poca praticità del tutto. Quindi intorno al 2010 fu deciso appunto di mettere online il questionario. Dopo una breve discussione, cosa mettere, quali domande mettere, come strutturarlo, fu abbastanza chiaro che l'unica strada percorribile era di mettere esattamente la copia, cioè le stesse domande, il stesso numero di domande, le stesse domande del questionario cartaceo. Quindi dopo qualche piccolo aggiustamento che fu fatto nei primi anni di messa online, il questionario ormai è standardizzato da anni e la copia online è esattamente la stessa di quella cartacea, cosicché i questionari che arrivano per via telematica sono archiviabili in maniera assolutamente omogenea con tutti quelli che già ci stanno. È il nostro un questionario piuttosto lungo, sono più di trenta campi di domande, più altri campi su anagrafica, nome, cognome del testimone, quindi è effettivamente impegnativo. Però questa è stata l'unica strada, perché avere un questionario composto da poche domande, oltre appunto ad essere difforme da tutto il resto della base dati, non ci dava poi quella quantità di informazioni che volevamo. Si è cercato, quanto più possibile, di semplificare dove possibile l'opera del testimone, che significa, per esempio, giorno, mese, anno sono messi in delle tendine, spero che riusciate a vedere bene, ho zoomato parecchio, cosicché almeno queste cose non debbano scriverle, no? Quindi si seleziona, è più veloce, però certe cose indubbiamente vanno scritte. La descrizione dei casi, la località, sono tanti campi che vanno compilati al testimone scrivendo. E questo può essere un problema per certi versi. Quindi il testimone che va sul sito e compila questo questionario, cosa succede dopo? Quando lo invia, cosa succede? Allora, intanto, tutti i dati vengono salvati automaticamente in un database. Questa è la forma brutta, fredda, dei dati, un database standard tipo MySQL, usato da tantissime applicazioni e siti. Come vedete, è pieno zeppo di dati che noi poi non dobbiamo impazzirci per trovarli, perché se cerchiamo una località, cerchiamo una data, poi è il computer che li cerca qua dentro. Però ecco, una volta compilato il questionario, quando il testimone lo invia, i dati finiscono in questo database. Parallelamente, io ho costruito uno schemino, una lista, diciamo, che ci consente, mi consente di accedere a quei dati brutti e crudi del DB in una forma un pochino più umana. Come vedete, c'è una lista dove vengono riassunti velocemente alcuni dati, luogo, data, ora, e poi tramite questo pannellino, tramite questo tasso qui della bustina della posta, vedete, io lo posso inviare alla lista, alla Mail English Casiofo, lo posso piuttosto che stampare, oppure posso visionare velocemente gli allegati, immagini, video, oppure lo posso anche cancellare, se ritengo che non è utile. Perché? Quindi, nel caso viene memorizzato automaticamente nel database, però non arriva automaticamente nella vostra casella di posta, non viene girato subito, automaticamente, per posta elettronica alla lista Casiofo. Benché questo fosse tecnicamente possibile, cioè si potrebbe fare, questo non viene fatto per due motivi, cioè perché c'è un controllo umano su ogni caso che passa poi alla lista. Per primo motivo di privacy. Perché se è vero che tutti i dati anagrafici, vedete qua, vengono automaticamente anonimizzati, vedete nome, cognome, email, telefono, indirizzo, questi già il sistema li oscura quando, prima di mandarli per posta elettronica. Però, a volte, i testimoni scrivono il loro nome, il loro cognome, anche magari qui nella descrizione, o in altri campi, o scrivono il loro indirizzo, per cui quelli vanno anonimizzati a mano. Quindi io mi rileggo ogni questionario, se vedo che ci sono delle informazioni personali, metto degli asterischi, e solo a quel punto il caso viene girato sulla mailing list. Questo quindi è il primo motivo, non è automatico per motivi di privacy. Un altro motivo è che, come tutte le cose che sono online, sono spesso vittime di attacchi di spam, di persone che entrano e scrivono cavolate, quindi si può capitare di avere dieci invii, dieci casi per un ragazzo che ha fatto uno scherzo, oppure dieci questionari vuoti. E voi capite che se aprite la posta elettronica e vi dovete arrivare ogni giorno dieci questionari di spam, la cosa è fastidiosa. Questo viene evitato perché appunto ci sono io che quando vedo che un questionario spam è vuoto, è uno scherzo, evito, lo cancello e non lo giro. Allora, come dicevo, la cosa è partita. Operativamente i primi casi sono stati ricevuti nel dicembre del 2010. Come vedete a dicembre, da questo grafico, dopo alcuni test, chiaramente abbiamo messo online e ha cominciato a inviare. Quindi il primo anno che abbiamo completo è stato il 2011. E considerate che, ho fatto un rapido conteggio, dal 2011 ad oggi abbiamo ricevuto, tramite questo sistema, più di 1700 casi. E la domanda è, se non ci fosse stato questo mezzo, quanti di questi casi ci sarebbero comunque arrivati? Probabilmente una piccolissima parte. Comunque, ecco, nel 2011, nel 2012 abbiamo ricevuto 283 casi all'anno, per pura coincidenza, il numero è identico. Erano degli anni molto laboriosi, arrivavano molti casi perché c'era anche il problema, tra virgolette, delle lanterne cinesi. Poi negli anni successivi si è assistita una diminuzione dei casi ricevuti, 183 nel 2013, 155 l'anno dopo, 123. Sono andati diminuendo fino ad un leggera risalita che c'è in questi ultimissimi anni, per esempio l'anno scorso 158. E questo è l'andamento attuale dei casi che riceviamo, che non sono più tantissimi. Su questo, apro una parentesi velocissima, una mia personale spiegazione che ho dato anni fa in uno dei nostri convegni, che può essere giusta in tutto, in parte, è che, visto che oggi si naviga sempre più con gli smartphone e con i tablet, e questo ce lo dicono i dati dei visitatori, se noi guardiamo i dati di accesso al sito, il 70-80% delle persone accedono con un tablet, con uno smartphone, non con il comodo computer di casa che ha una tastiera fisica dove si scrive comodamente, ha un monitor bello grande. Questo per dire che compilare il questionario sullo smartphone è un pochino complesso e lungo, e ci potrebbe far perdere dei casi. Comunque, detto questo, il fatto che riceviamo meno segnalazioni, comunque, è un dato di fatto, e va un pochino a fasi alterne. Per esempio, c'è stato un paio di anni fa una piccola ondata perché c'erano i lanci di satelliti Starlink. Quella, per fortuna, si è risolta brevemente. Che altro vi posso dire? Questo, ve l'ho detto, è il modulo online, queste sono le statistiche che io genero comunque per avere una visione rapida. Per un breve periodo il questionario era anche sul sito ufo.it, quindi, indipendentemente da dove il testimone andasse, arrivava a noi. Attualmente, come ha detto Edo, si viene rediretti direttamente nel nostro sito ufutuscia. E il caso viene girato sulla mailing list. Non so, tante altre cose da dire, non ce l'ho. Magari se avete delle domande, alla fine, volentieri, se qualcosa non è chiaro. Però, ecco, è una forma, diciamo, automatizzata di trasferimento dei dati. Quindi, poi, chiaramente, ecco, questo si può dire quando c'è bisogno, quando qualcuno lo chiede, è possibile prendere il database, quello nudo e crudo dei dati, esportarlo in un formato che può essere Excel o Access. E quindi, magari, ecco, il curatore dei casi della Sicilia, piuttosto che della Lombardia, riceve il suo estratto dei casi e si li può importare nel suo DB, quindi senza fatica, senza dover scrivere o copiare nulla, si importa tutti i casi che abbiamo ricevuto. Questo è uno dei vantaggi che appunto abbiamo ad avere una base informatizzata dei casi che riceviamo. a fare un'interno che è possibile di iniziare. Grazie.